Carissimi ragazzi e ragazze all'ascolto, Ave Maria a tutti e ben ritrovati dopo una più o meno lunga pausa di dirette estiva sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Sono quasi tre settimane che non riusciamo più ad andare in diretta per vari fattori legati alle contingenze estive. Se Dio vuole e se la Madonna ci aiuta da oggi riprenderemo regolarmente questo ultimo tratto del cammino verso la conclusione di questo lungo ciclo di catechesi dedicate ai Dieci Comandamenti. Nella puntata precedente, che è stata l'ultima, di metà agosto, se ricordate abbiamo concluso con la tematica del peccato impuro solitario e dell'idolatria del corpo e l'ampio capitolo dedicato al Sesto Comandamento. Ora ci attende un nuovo capitolo, forse non così ampio perché le specie di peccato sono leggermente di meno, ma non meno importante sotto certi aspetti del Settimo Comandamento, non rubare, che oggi speriamo di poter introdurre. Come una notazione, se mi permettete subito ironica, questo che è il Settimo Comandamento nella nostra mentalità e cultura contemporanea più di qualche volta sembra essere diventato il primo, perché pare che oltre a non rubare non esistano altri comandamenti e se uno Dio non voglia ruba, poi dovremo metterci d'accordo e cercheremo di determinare bene di cosa significa rubare. Sembra che commetta il più grande delitto che esista sulla faccia della terra, ben inteso, si tratta di un comandamento, ma si tratta del comandamento numero 7. Si possono commettere tantissimi peccati mortali ovviamente su questa specie, ma vi acceno subito che la maggior parte dei peccati mortali sono previsti dalle fattispecie più note, più comuni dei reati da codice penale. Viceversa ci sono alcuni reati da codice penale attuale che come vedremo, così cercheremo anche di comprendere una distinzione fondamentale tra legge civile e legge morale, ci sono alcune fattispecie penalizzate o non penalizzate dall'ordinamento civile, perché alcuni sono trasgressioni di tipo esquisitamente amministrativo, altri invece sono addirittura penalizzate come reato, che però da un punto di vista morale in senso stretto, se riusciremo a capire bene alcune cose, non possono essere considerate alla stegua di peccati gravi. Questo dobbiamo sempre tenere presente che, specialmente mi sembra di aver dedicato qualche puntata negli articoli precedenti, oggi non è infrequente con la laicizzazione degli ordinamenti giuridici, con il cosiddetto positivismo giuridico, le varie teorie delle norme fondanti di giuristi completamente atei che hanno rinnegato il legame del diritto con la legge naturale non si può più assolutamente fare nostro il principio tradizionale, il principio tradizionale diceva che la legge dello Stato, l'ordinamento giuridico garantisce il minimo etico, cioè non copre tutto l'arco della legge morale, perché la legge morale è più ampia della legge giuridica, però sicuramente dà una base etica fondamentale e inallenabile al comportamento dell'uomo. Oggi purtroppo capite bene, perdonatemi queste premesse, che non è così, perché un gravissimo peccato contro il quinto comandamento come l'aborto è perfettamente consentito dall'ordinamento giuridico non solo italiano, ma praticamente di tutte le legislazioni del mondo e pare purtroppo a me che anche l'Irlanda, che è l'ultimo baluardo mondiale antiabortista, almeno qualche tempo fa mi era giunta qualche notizia che ci sono dei fermenti per portare questa piaga anche lì e quindi capite, similmente il sesto comandamento una volta era reato del codice penale l'adulterio, oggi sembra che sia quasi reato, questa è una battuta ironica chiaramente, non commettere l'adulterio. Una volta c'era reato di codice penale alla bestemmia, adesso è stato depenalizzato, così come una volta era assolutamente proibita dalla legge civile il divorzio, così come nella legge canonica era consentita solo a certe condizioni la separazione. Quindi questo per farvi comprendere come ci sono delle cose che la legge consente e che per noi sono peccati mortali, per noi, cioè per la legge di Dio, per la legge morale, vedremo a proposito di questo comandamento che ci sono delle cose che sono sanzionate anche penalmente dalla legge dello Stato e che però da un punto di vista morale non costituiscono ipsofatto peccato mortale. Quindi capite che è sempre molto importante, molto molto importante la formazione. Vi dico subito che su questa materia ascolteremo delle sorprese, sorprese che quando anch'io curavo un po' la mia personale formazione non mancai di registrare come tali, perché nessuno di noi è nato imparato e quindi mano a mano che ci si forma, che si acquistano determinate competenze, a volte si rimane sorpresi perché tanti luoghi comuni o del pensiero personale o della coscienza sociale diffusa non sempre sono confermati dall'avallo di ciò che poi formandosi si viene a conoscere. Allora, questa introduzione è un pochino molto generale, adesso si andiamo un pochettino più particolare, introducendo la tematica del settimo comandamento. Questo comandamento, come tutti i comandamenti, è finalizzato e ordinato alla gestione di una realtà fondamentale dell'esistenza umana, cioè il denaro e i beni materiali ricevuti in dono da Dio, che sono comunque elementi essenziali e costitutivi della vita terrena. I primi tre comandamenti, comandamenti, ricordiamo, regolano il rapporto con Dio, il quarto il rapporto con i genitori, il quinto il rapporto con la vita, il sesto i rapporti, diciamo così, in senso ampio, familiari o comunque interpersonali nella dimensione uomo-donna e sul settimo regola il rapporto con i beni. Vedremo che poi l'ottavo comandamento fondamentale per ordinare il nostro rapporto con la virtù della veracità e anche per consentire un modus vivendi improntato al bene, perché se si cominciano a diffondere menzogne e calunnie tutto diventa più complicato. Mentre gli ultimi comandamenti, caratteristiche, chicche, diciamo così tipiche della legge di Dio, vanno anche a scandagliare quali sono i nostri pensieri, i nostri desideri consentiti per impedire che alcuni peccati affiorino, diciamo così, e passino all'opera prevenendoli anche, diciamo così, nel loro insorgere, cioè a livello di pensiero e di desiderio consentito, ma di questo ci occuperemo a suo tempo. Quindi queste cose che vi ho accennato sono esemplificazioni del grande Sant'Omaso da Quino, quindi primi tre comandamenti oggetto il bene sommo, cioè Dio, il quarto il bene della famiglia, il quinto il bene della vita, il sesto la santità del corpo, il settimo i beni materiali, l'ottavo il bene morale dell'onore e della veracità. Quindi si tratta di un comandamento molto importante che coinvolge tante realtà fondamentali e su cui specialmente negli ultimi secoli, negli ultimi due in particolare, tanto si è sdottoreggiato, tanto si è pontificato e tanto si è scritto e tanto si è fatto, tra l'altro, creando anche delle situazioni a livello politico nazionale e internazionale di forte cambiamento rispetto al passato. Dobbiamo pensare che volenti o nolenti ci sono tutta quanta la Cina, non so se sono un miliardo o due miliardi di persone, non mi ricordo la cifra precisa, che sono tuttora adesso sotto il pieno regime di comunismo reale, quindi non di socialdemocrazia o di centrosinistra o sinistra moderata, quindi sono comunisti in senso stretto. Il comunismo non è altro che un'analisi fondamentale fatta a suo tempo dai filosofi ideatori di questa pessima e perniciosa ideologia che partiva proprio da alcuni capisaldi fondamentali come il problema della proprietà privata, il problema dei mezzi di produzione nell'industria, elaborando poi a partire da una certa lettura di questi fenomeni una vera e propria ideologia, quindi con tanto di religione laica e con tanto di progetto e di fine, cioè di istruzione del cristianesimo e costruzione di un utopico paradiso sulla terra fondato sulla giustizia sostanziale e sociale assoluta che poi non si è mai realizzata perché ci sono sempre poi qualche classe di privilegiati che nel feodalesimo erano i signori feudali, nel medioevo erano i nobili e poi nei regimi comunisti sono i dirigenti del partito, quindi cambia il nome, cambiano le forme ma alla fine il cuore dell'uomo è sempre lo stesso nonostante tante utopie. Quindi c'è il problema della proprietà privata e attenzione che su questi punti, mai come oggi in certi cattolici c'è tanta 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 confusione, nel senso che c'è un certo senso quasi di soggezione e quasi di sentirci in debito nei confronti di certe posizioni proprie del mondo derivante dalla sinistra che vengono sbandierate come assolutamente cristiani, su cui non ci piove, non è neanche materia di discussione, vedremo che materia di discussione è tanto e come, e lo vedremo a luce del magistrato della chiesa, di fior di papi, come Leone XIII, come Giovanni Paolo II, come Paolo VI che hanno trattato di questi argomenti, certamente non a luce delle mie personali opinioni che è legittimo avere ma che ovviamente sono opinioni personali che può avere qualunque figlio di Dio e anche un ministro di Dio. La proprietà privata, quindi la destinazione universale dei beni che sembra essere un principio confliggente con la proprietà privata e invece vedremo che non lo è. La virtù cardinale della giustizia nella gestione dei rapporti patrimoniali, perché i debiti vanno onorati, i debiti vanno pagati, vedremo che su questo comandamento vigila giustizia commutativa proprio in senso stretto, quindi bisogna realmente pagare i propri debiti, pagarli fino all'ultimo centesimo, pagarli bene, pagarli subito e pagarli tutti. Invece, vi faccio subito una premessa, quando parleremo di un argomento, l'argomento degli argomenti, in quest'estate non si è parlato di altro che di questo, cioè delle tasse, vedremo come le tasse secondo la dottrina sociale comune del cristianesimo non è un tipo di problematica collegata al settimo comandamento, ma al quarto, perché il potere di tassazione da parte dello Stato non si fonda sul rapporto tra pari, cioè il fatto che io paghi le tasse allo Stato non è come pagare un prestatore d'opera di servizio, un'impresa che mi restaura la casa, perché l'impresa che mi restaura la casa è un mio pari e il fondamento del fatto che io lo paghi è che mi ha prestato un servizio. Invece lo Stato agisce nei miei confronti in un rapporto di autorità, quindi vi ricordate quando parlavamo del quarto comandamento, onora il padre alla madre, parte dal padre alla madre, si estende a tutti i rapporti di autorità, compreso la potestà di imporre dei tributi, attenzione potestà di imporre dei tributi, vi ricordate quello che dicemmo del rapporto genitori figli, entro i limiti della giustizia, non di imporre tributi folli, con questo già sto accennando ad alcune questioni o tassazioni pazzesche. Io ho sentito 4-5 mesi fa a un telegiornale uno dei più obgettivi a quello che dicono in giro, che ha appena compiuto 10 anni con tanti auguri del presidente napolitano che è SkyTG24, alcuni imprenditori del nord Italia sono tassati al 70%. Allora qui siamo proprio in regime di palesi ingiustizie, poi uno come si reagisce a questo tipo di dinamica è un altro discorso, quantomeno denunciarla come tale si può e si deve. Oppure la legge che è appena entrata adesso in vigore e che è stata segnalata anche da alcuni ambienti vicino al cristianesimo, il fatto che lo Stato può, violando le norme sul segreto bancario e sulla privacy, andare a controllare i movimenti del mio conto corrente personale, senza che io lo sappia, senza darmi una comunicazione, cioè chiedere alla banca di darmi la lista dei movimenti del conto di Leonardo Pompei e quelli che lo devono dare e non mi comunicano nulla per andare a verificare se il mio giro dei soldi è compatibile con la dichiarazione dei redditi che io faccio. Questa non lo so, altri giornali hanno detto ma questa notizia non ha fatto tutto questo grandissimo giro del mondo, adesso per quanto riguarda questa mia opinione personale, questo è uno stato di pulizia tributaria ma neanche neanche nei vecchi regimi sovietici c'era una cosa di questo genere. Immaginate un po' lo prete, arriva uno, non è successo ma potrebbe succedere, mi fa una donazione di 30.000 euro, mi fa un bonifico sul mio conto, mi dà 30.000 euro e mi dice padre ne dai 10.000 ai poveri, ne dai 10.000 alla chiesa, ne dai 10.000 alle missioni. Se mi fanno adesso un'operazione di questo genere, mi potrebbero mettere in difficoltà. Ma questo è assolutamente fuori del mondo questo qui, capite? Ecco, quindi bisogna fare estrema attenzione, così come tutte le problematiche che abbiamo visto in questi giorni, adesso sembra che hanno abolito l'Imu, è giusto o no che un po' lo disgraziato fa tanti sacrifici per comprarsi la casa, il mutuo, su una cosa che ha acquistato e ci ha già pagato le tasse quando l'acquistava, perché comunque devi andare a pagare le imposte, l'ufficio del registro e l'IVA comunque che paghi e devi andare a pagare ogni anno per che cosa? Per il fatto che quella casa è tua, tu devi pagarci i soldi ogni anno. Allora, su queste materie bisogna fare estrema attenzione perché, vi ripeto, circola tanto qualunquismo e tanti tipi di discorsi. Qui bisogna avere chiari, e cercherò di farlo in questi incontri, alcuni principi da cui chiaramente discendono alcune norme da osservare e da osservare fino alla fine. Però, sia i principi che le norme da osservare devono essere ben compresi, devono essere ben compresi, perché su questo argomento, ripeto, bisogna discernere e distinguere la morale dalla legge dello Stato. Specialmente in questi tempi in cui, ripeto, ho iniziato con una notazione ironica, sembra che il settimo comandamento non solo sia il primo, ma sia l'unico comandamento, perché non uccidere non esiste, la famiglia non esiste, Dio non esiste, gli atti impuri non esistono, parliamo della calunnia e della diffamazione tra social network, giornali e telegiornali, che uno si è messo in mezzo a una strada con niente, non il decimo comandamento, figuriamoci, che cosa gli importa a uno, se uno uscia uno sguardo impuro, con tutta la pornografia che gira, o che uno desidera la cosa da altri, figuriamoci. Quindi, sembra che oggi sia solo un comandamento, uno, non rubare, su quello sono tutti d'accordo, potete fare tutti quanti i sondaggi, le cose, perché i politici non vanno bene perché rubano, non è che i politici non vanno bene perché fanno leggi immorali, no, quello non fa assolutamente nulla, rubano. Io spero che voi ragazzi mi stiate capendo bene, anche gli ascoltatori, il senso di quello che sto dicendo, non sto certamente incitando a rubare o a... o a varie forme di divasione fiscale o qualcosa di questo genere, però questo argomento, ripeto, perdonatemi la prolissità dell'introduzione, va ben compreso e va anche un po' ridimensionato, ridimensionato, ridimensionato. Ecco. Di tutti questi argomenti, da un punto di vista rilevante per noi, cioè che è quello che è il punto di vista del cristianesimo, si occupa una parte particolare, una branca particolare della morale che ormai da circa un secolo e mezzo a questa parte si è configurata con una disciplina assistante che si chiama la cosiddetta dottrina sociale della Chiesa, che ha cominciato ad assumere una sua configurazione autonoma in concomitanza con la rivoluzione industriale e con la proposizione delle prime tesi comuniste, contro le quali ebbe modo di scrivere, cominciando a puntualizzare alcuni principi fondamentali del modo cristiano di approcciarsi a queste tematiche, il grande pontefice Rene XIII con l'encifica Rerum Novarum del 1891. Facciamo come sempre una piccolissima pausa per l'Ave Maria che sono le 17 e poi cominciamo a riprendere l'argomento a partire da qui. Allora, Leone XIII con questa grande enciclica, che è una pietra miliare nella storia del magistero morale e in particolare è considerata l'enciclica di fondazione della dottrina sociale della Chiesa. Come accennavo, ebbe modo di entrare nel merito e nei particolari, pur rimanendo fondamentalmente sul piano dei principi, dentro le nuove problematiche suscitate dalla rivoluzione industriale e dalla famosa questione operaia, che era stata monopolizzata e strumentalizzata dal movimento comunista. Voi sapete che il grande successo del comunismo è stato causato da gravissime ingiustizie sociali che furono perpetrate, tutti penso che lo sapete, giovanotti mi raccomando che a scuola si studi bene tutto nel particolar modo la storia, dalle gravissime ingiustizie perpetrate agli albori della rivoluzione industriale, con orari di lavoro folli, 12, 13, 14 ore al giorno, bambini sfruttati, salari bassissimi, quindi staporagente e con questo nuovo modus operandi, ritmi massacranti, il rapporto con le macchine che non c'era mai stato. I pionieri del comunismo scesero in campo come gli amici degli operai e difensori della giustizia contro i sobrusi dei ricchi e dei potenti. Monopolizzando di fatto la questione, qui forse è una delle circostanze in cui, ahimè, purtroppo per una sciagurata contingenza, la Chiesa si trovò un po' impreparata a scendere subito in campo. L'intervento del 1891 fu efficace, ma detta di qualche commentatore, osservatore, forse un po' tardivo. Nel senso che abbiamo chiuso la stalla quando i buoi erano già usciti, perché questi stavano già monopolizzando i moti proletari di tutta l'Europa, di mezzo mondo, e di lì a poco, vent'anni dopo, avrebbero cominciato a imporsi all'attenzione del mondo intero con la famosa rivoluzione d'ottobre del 1917 in Russia. Quindi, comunque da quel momento, tardivo o non tardivo l'intervento della Chiesa, si prese in seria considerazione questo aspetto fondamentale e amplificato dalla mutata cultura sociale e dai mutati costumi imposti da una nuova forma di organizzazione non solo economica, ma poi anche sociale e politica della società, cominciando a intervenire in merito. Purtroppo, in questa area, come accennavo, si sono avute anche delle derive. Lo accenno subito, prima di farlo più avanti, nel senso che nel secolo scorso, tra le varie correnti teologiche, soprattutto la seconda metà del XX secolo, che hanno prodotto tanto male e i cui effetti ancora non sono tutt'altro che finiti, specialmente in alcune zone dell'America Latina, è stata la cosiddetta teologia della liberazione, molto diffusa e che ha trovato l'emblema anche in alcuni personaggi, non vorrei fare nomi, ma alcuni molto molto noti, tra l'altro recentemente passati a miglior vita anche nell'ambito di qualche sacerdote vivente in Italia. Praticamente la posizione di questi teologi, volendo estremamente semplificarla, era una sorta di applicazione dei principi del comunismo al cristianesimo, o se si preferisce, una sorta di lettura appiccicaticcia, chiaramente, quindi eteronoma, avrebbe detto probabilmente il filosofo e illuminista Emanuel Kant, una lettura cristiana del comunismo, o una, peggio ancora, giustificazione in chiave cristiana di alcune posizioni del comunismo, in modo per particolare quello che riguarda la lotta di classe e il fatto che probabilmente il problema dei problemi, anche della Chiesa, su cui bisogna intervenire, è lo sfruttamento dei potenti e dei ricchi a danno dei poveri. La Chiesa servirebbe soltanto a questo, ma stare attenti però ragazzi, perché guardate anche oggi, adesso faccio subito alcune puntualizzazioni, quando la Chiesa fa qualcosa in campo sociale, o quando alza la voce, come deve, per carità, contro le ingiustizie sociali, contro le questioni di questo genere, sono tutti quanti amici della Chiesa. A quando però tratta di qualche tema etico, dice no all'aborto, dice no al divorzio, dice no alle unioni di fatto, dice no alle unioni gay, dice no al preservativo, vi ricordate quel poveraccio di Benedetto XVI, perché è una mezza cosa, che succede? Puff, la fine del mondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo laico vuole che la Chiesa interpreti la sua missione solo in questa chiave, cioè tu Chiesa hai ragione di esistere se sposi la causa dei poveri, la causa delle ingiustizie dei potenti contro E, quindi se fai una sorta di pressione social-politica contro le ingiustizie sociali del mondo. Ah, se fai questo ti diamo tutti quanti gli applausi che vuoi, forse diamo pure un pochino di soldi per aiutarti a farlo, ma se esci da questo punto, per favore non ti intromettere, perché lo Stato è laico e il resto delle questioni le decidiamo noi e tutti a nitere per te e sono le tue personali e opinabili posizioni confessionali. Sapete che c'è sempre possibile intervenire telefonicamente, c'è lo 0825444391, quindi se qualcuno vuole dare un pochino di luce, che ha un altro modo di vedere la situazione o non condivide questa impostazione può tranquillamente chiamare anche per illuminare anche me, però a me sinceramente pare questa la situazione. E torniamo al punto da cui sono partito, cioè questo è l'unico comandamento che esiste oggi, cioè percepito come tale, rilevante dal punto di vista etico, non esiste nessun'altra cosa. Qual è il peccato dei peccati oggi? Che non paghi le tasse o che rubi. Ripeto, cose in se stesse non da farsi, nessuno mette in discussione che questi siano comportamenti negativi, ma questi sono comportamenti negativi meno gravi di altri più gravi, cioè l'aborto è più grave dell'evasione fiscale o il divorzio è più grave di non pagare tasse. Che un politico appoggi una legge iniqua e la voti è più grave che se si mette in tasca i soldi pubblici. Non se li deve mettere in tasca, mettersi in tasca i soldi pubblici è una cosa gravissima, ma è più grave appoggiare una legge immorale davanti a Dio. Allora, dentro quest'ottica, ragazzi, di tutto abbiamo visto. Allora, diamo i primi principi introduttori. Allora, i beni materiali sono beni, non sono mali. Scopri d'acqua calda, non tanto, non tanto, non è una ovvia e inutile tautologia. Il denaro e i beni materiali sono in se stessi dei beni, non i più alti, non i più importanti, non i più elevati, non i più indispensabili, ma sono dei beni. Gesù ha parlato della ricchezza nel Vangelo come di un pericolo, non come di un male. E non ha fatto nessuna equazione ricchi uguali, grandi peccatori insalvabili, poveri uguali e, come dire, lascia passare automatico per il Paradiso perché saranno sempre buoni, santi e semplicemente sfruttati da quelli che si mangiano tutto alla faccia loro. Non c'è questo nel Vangelo. Gesù ha elogiato la povertà, anzitutto di spirito, ma un povero materiale, per essere beato, deve vivere la povertà evangelica, cioè contentarsi della sua condizione di povertà, non invidiare i ricchi e non mandargli gli accidenti. Dice quello c'è un sacco di soldi e io non so niente, posso andargli tutti in medicine. Sapete l'espressione che si usa magari in forma ironica, scherzosa, senza rendersi conto della gravità di un'affermazione del genere. Se uno lo dice una cosa di questo genere con odio e con rancore, certamente non sta nella condizione di beatitudine. Si potrà avere un sentimento di compassione, di comprensione, di misericordia perché una persona che sta nell'indigenza è esasperata, ci può avere mille circostanze attenuanti, ma se vive così la sua condizione, non vive in condizione di beatitudine. Ci sono dei ricchi, ci sono, c'erano, ci sono sempre stati. Il miglior amico di Gesù, da quello che ci dicono i Vangeli, il Vangelo di San Giovanni, era Lazzaro, ma Lazzaro era figlio del governatore della Siria, di Teofilo. Il governatore della Siria era un pezzo grosso. avrebbe potuto essere, adesso lo dico grande, qualcuno si arrabbia, avrebbe potuto essere da un punto di vista economico come il figlio di Berlusconi. Immaginatevi se Gesù oggi fosse amico del figlio di Berlusconi che succederebbe, la fine del mondo. Ma Gesù sarebbe amico del figlio di Berlusconi se il figlio di Berlusconi fosse una persona, cosa che potrebbe essere, perché io non lo conosco, adesso è un momento contingente, quindi non lo voglio escludere. se fosse una persona, come dire, buona, retta e integra, sicuramente gli amici di Gesù erano delle sante persone, ma Lazzaro c'era un sacco di soldi, tant'è vero che la sorella Maria, se uno legge il Vangelo, quando il sabato prima della passione spacca un vasetto di alabastro per ungere Gesù del valore di 300 denari. E il signor Giuda, il grande pseudo e falso moralista dell'epoca, che mi assomiglia tanto a certi signori che circolano oggi, si straccia le vesti, 300 denari, ma sai quanti poveri potevano sfamare? Guardate che non c'era tutti i torti, eh? Per tutto pensare che un denaro era la paga quotidiana di un operaio, quindi 300 denari vuol dire che un operaio prendeva 30 denari al mese, 300 denari vuol dire 10 mesi di stipendio, quindi sarebbe l'equivalente di oggi, eh? Quanto potrà essere? Ecco quanto prenderà al mese un operaio, facciamo 1.500 euro lordi, vuol dire che un denaro era 50 euro, 50 per 300 fa 15.000 euro, cioè quella signorina poteva permettersi di prendere un vasetto da 15.000 euro e di romperlo per il capo di Gesù, quindi non erano dei poveracci, c'è qualcuno di voi che dentro casa c'è una boccetta di profumo dal valore di 15.000 euro? Per poterti permettere una cosa del genere certamente non può essere uno che campa di stipendio, il figlio di un operaio, no? Lo capite? Quindi vuol dire che Lazzaro era miliardario, era il miglior amico di Gesù, quindi non è che il ricco, per il fatto di essere ricco, è il demonio incarnato, perché se tocchi i soldi sei il demonio. Chi l'ha detto questo qui? Chi l'ha detto questo? Allora, il problema fondamentale non è essere ricco o essere povero, ma è il rapporto che si ha con le ricchezze. Quindi la ricchezza di per se stessa non è una cosa in visa a Dio o non è necessariamente foriera o apportatrice di corruzione, di malaffare o di disonestà, non lo è necessariamente. Certamente a causa della condizione dell'uomo decaduto, della sua debolezza e per il fatto che comunque i soldi rappresentano, lo vedremo, un grande strumento di soddisfazione di moltissimi desideri, di moltissimi piaceri, una fonte di grande sicurezza personale, di grande potere e prestigio sociale, eccetera, eccetera. Certamente possono far venire le vertigini e portare una persona a fare anche grandissimi peccati, tra cui rubare. Ma non è un fatto automatico, né possiamo appiccicare a priori le etichette. Quello è ricco è il demonio, quello è povero è un santo. Nel Vangelo non c'è nulla che giustifichi una prospettiva del genere. Quindi di per sé, e questo lo trovate nel Catechismo della Chiesa Cattolica, le ricchezze, e con ciò si intende il denaro e i beni materiali, sono doni di Dio che devono servire al giusto ed equo soddisfacimento dei bisogni materiali propri e altrui. Nulla di più e nulla di meno. Se è vero infatti che non si deve vivere per i soldi, non è tuttavia meno vero che senza soldi non si vive, cioè che i soldi servono per vivere. Ecco. Tenete presente che la Chiesa nel corso della storia ha reiteratamente condannato l'eresia, oggi a mio modestissimo avviso, più che strisciante e neanche troppo larvata, in più di qualche ambiente ecclesiale, chiusa parentesi, del pauperismo. Cosa affermare il pauperismo? Il pauperismo ha affermato che le ricchezze sono un male di per sé e che quindi chiunque non avesse abbracciato la povertà volontaria sarebbe stato dannato. E il fatto stesso di essere ridicchi costituisce peccato. Qui attenzione, vi faccio di coprire un'ultima cosa prima di commentare. Sibbadi che al tempo dei grandi movimenti mendicanti medievali, se uno studia un po' di storia della Chiesa, guardate che San Francesco e San Domenico sono stati gli unici due che sono sfuggiti dalla condanna di eresia, perché tutti gli altri, Pietro Valdo, gli albigesi, i catari, solo per fare qualche nome, ma ce ne sono altri minori, sono stati tutti dichiarati eretici. Tutti. Per questo estremismo radicale nell'imporre queste dottrine. Indubbiamente la povertà evangelica è un consiglio. Qui stiamo parlando di comandamenti, la povertà è un consiglio. Cosa vuol dire un consiglio? Un consiglio vuol dire che il Signore ad alcune persone, non a tutti, consiglia e non obbliga, una scelta migliore e meno rischiosa e più elevata ai suoi occhi rispetto a quella comune. Però dire che chi non fa la povertà va all'inferno è come dire, l'altro consiglio è quello della castità, chi si sposa va all'inferno. O è come dire, chi non si sottopone all'obbedienza volontaria anche in ciò che esula, da ciò che Dio strettamente ci ha chiesto, che è la materia delle nostre conversazioni, cioè la catechesi, va all'inferno. Ma questo non è vero questo qui. Sarebbe come dire, chi non c'è il padre spirituale a cui è soggetto a lui con un voto di obbedienza, va all'inferno. Ma dove sta scritto questo qui? Santa Teresa Davila, monaca carmelitana, diceva chiaramente quello che ci chiederà Dio quando ci troveremo alle porte del paradiso, si metterà davanti il decalogo. Se l'hai osservato, sei salvo. Se non l'hai osservato e non ti sei pentito, sei dannato. Finito. Niente di più e niente di meno. Sono dieci parole. Non sono né undici né nove. Quelli. E basta. D'accordo? Quindi il Vangelo ammonisce anche con gli episodi. Vi ricordate il giovane ricco, per esempio. Il ricco e pulone. Oppure la parabola di due o tre domeniche fa. Il ricco stolto che pensa soltanto ad ammassare i beni senza preoccuparsi di fare del bene con i beni e tenendoli soltanti per sé muore alla notte seguente, senza aver fatto neanche un'opera buona. Tutti questi episodi sono delle esortazioni, delle ammunizioni, a guardarsi dal pericolo che il bene della ricchezza per l'uso cattivo che l'uomo ne fa diventi un male. Quindi se ne faccia un uso non benedetto da Dio. Ma non è mai la condanna della ricchezza in se stessa né del ricco in quanto tale. E abbiamo poi l'esempio di Lazzaro. Quindi attenzione, perché c'è una distinzione fondamentale tra consigli evangelici che non sono richiesti a tutti e che non sono condizioni imprescindibili per andare in paradiso. E comandamenti. Quindi l'estremismo, il rigorismo è sempre da guardare con sospetto. Così come quelli, vi ricordate quando Gesù retarguisce i farisei, che filtrano il moscerino e ingoiano il cammello. Cioè c'è una differenza, cioè cento miliardi di miliardi di peccati veniali, non fanno un peccato mortale o no. È certo che tu devi sempre parlare contro il peccato in quanto tale, perché è anche una bugia di scusa, come vedremo, non bisogna dirla perché offende Dio. È una trasgressione dell'ottavo comandamento per quanto lieve. Insomma, l'adulterio è più grave di una bugia di scusa. Se tu fai cento miliardi di bugie di scusa, non è fatto neanche un miliardesimo del delitto di adulterio. Quindi bisogna sempre tenere molto molto chiari questi discorsi. Questo è il primo punto da tenere chiari. Quindi i beni temporali sono beni e il pauperismo è un'eresia. Stiamo cercando di introdurci a questo comandamento. Secondo punto, la proprietà privata è lecita e corrisponde ai disegni di Dio sulla destinazione dei beni. Quindi i comunisti che affermano l'illicità della proprietà privata in quanto tale e anche alcuni pseudo teologi cattolici che vorrebbero giustificarlo teologicamente sono nell'errore. Non è la proprietà privata un male gravissimo da abolire, assolutamente, perché il Catechismo della Chiesa Cattolica recita testualmente numero 2402. L'appropriazione dei beni è legittima al fine di garantire la libertà e la dignità delle persone, di aiutare ciascuno a soddisfare i propri bisogni fondamentali e i bisogni di coloro di cui ha la responsabilità. Ovviamente tale appropriazione deve consentire che si manifesti una naturale solidarietà tra gli uomini. Quindi, secondo la legge di Dio, si possono possedere a titolo di proprietà personale dei beni per tre motivi. Garantire l'esercizio della libertà. Secondo, la dignità della persona, un'esistenza decorosa e degna dell'essere umano. Terzo, la soddisfazione dei bisogni fondamentali. I soldi servono per vivere, quindi se mi ci compro una casa, se mi ci compro una macchina, se mi ci compro un computer di questi tempi, che non si può considerare oggi per esempio un bene di lusso o un bene accessorio con il mondo in cui viviamo. Anche la televisione per certi aspetti, o un telefono, cioè viviamo nel 2013, non viviamo nel 1500. Quindi le cose necessarie alla vita in questo mondo, proporzionate tra l'altro allo status, alla condizione sociale, alla professione che uno fa, si possono prendere. E al tempo stesso, lo vedremo, avere sempre la consapevolezza che i beni vanno amministrati avendo un occhio di riguardo per chi si trova in situazioni di difficoltà, che è quella che il Catedrismo della Chiesa Cattolica chiama la solidarietà. Ma la solidarietà è molto diversa dall'esproprio proletario, anche se è grossa responsabilità davanti a Dio. Perché la solidarietà si fonda sull'acquisizione personale del valore dei beni e sulle esigenze della carità che il consorzio umano richiede. Quindi io volontariamente e con gesto libero personale e umano destino parte dei miei beni a chi è privo del necessario, non che arrivano e mi espropriano per forza. Non si può fare questa cosa. Secondo la legge di Dio è il terzo punto che bilancia il secondo, perché la proprietà privata non può diventare appropriazione indebita e monopolio assoluto o accaparramento egoistico dei beni a discapito del prossimo. Perché Dio ha creato i beni materiali per tutti. Sono i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, e non perché sia un appannaggio di pochi eletti per i loro egoistici bisogni e interessi. Quindi in questo senso l'uomo ricco deve considerarsi tale è realmente una sorta di amministratore delegato della divina provvidenza. Quindi se ha del sovrappiù, è lui stesso che liberamente e gioiosamente deve amministrarlo per sovvenire i bisogni e le necessità di chi è privo del necessario. È questo principio morale, tra l'altro, che rende legittima l'equa tassazione da parte degli Stati. attenzione, l'inosservanza di questo principio morale, o la malosservanza di questo principio morale, rende iniqua anche una tassazione non eccessiva. Questo da un punto di vista morale. fondamentalmente la tassazione da parte di uno Stato si fonda sul principio che tutti devono contribuire al bene di tutti e quindi lo Stato preleva parte dei beni del cittadino per redistribuire in maniera equa e per fini buoni redditi e ricchezze. Se si facesse soltanto questo, se si facesse in maniera equa, sarebbe nessun problema. Anche su questo punto è bene citare il Catechismo della Chiesa Cattolica a conclusione di questa prima puntata introduttoria. Leggo ampi stralci dei numeri 2403 e 2404 che dicono il diritto alla proprietà privata acquisita o ricevuta in giusto modo non elimina l'originaria donazione della terra all'insieme dell'umanità, principio che si evince da una lettura teologica attenta dei racconti della creazione. L'umanità è stata data all'uomo, non a un uomo, ma all'uomo in quanto capostibito del genere umano e quindi a tutti in maniera equa. La destinazione universale dei beni rimane primaria anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio. L'uomo usando dei beni creati deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui ma anche agli altri. La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della provvidenza per farlo fruttificare e spartirne i frutti con gli altri e in primo luogo, ovviamente, con i propri congiunti. Sta dicendo che chi ha la famiglia, i primi destinatari della sovrabbondanza di beni personali che si hanno e che si devono avere perché la famiglia deve essere mantenuta, sono chiaramente i familiari, il coniuge e i figli. Principi questi, per la verità, tutelati anche dall'ordinamento giuridico attraverso le norme sulla successione legittima senza testamento. Queste sono cose ovvie e comuni. Quindi, volendo riassumere, i beni materiali sono beni, non sono mali, possono essere posseduti a titolo personale attraverso la proprietà privata, tenendo presente però che i beni, nella volontà di Dio, sono da essere messi a disposizione di tutti e quindi chi dovesse eccedere in un possesso di beni che vada largamente o mediamente al di là di quello che è necessario, sappia che è tenuto, ed è tenuto a prestare le mani al Padre Eterno per esercitare la grande virtù della liberalità e della benevolenza e dell'elemosina in alcune circostanze. Il fondamento ultimo di questo non è nemmeno la virtù teologale della carità ma quella cardinale della giustizia, perché se i beni sono stati distribuiti a tutti è giusto che chi ne ha per misteriose disposizioni dall'alto o per contingenti causalità della vita terrena che sono comunque guidate dalla divina provvidenza più del necessario, ne renda parte a chi di questo ne è primo. Capite però che il fondamento di questo è sempre l'esercizio della libertà della persona nel rispetto della degnità dell'uomo e di ogni uomo. La prossima volta, se il Signore ci aiuta, posti questi principi che spero di essere stato chiaro nell'evidenziare, cominceremo a scendere un pochino nel merito e a vedere come e quando effettivamente si viola il comandamento del non rubare. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sia di terrede. A tutti. Ave Maria.